L'approssimarsi della commemorazione dei defunti ci dà lo spunto per una panoramica sulla condizione delle due aree cimiteriali di Marianello e dei Cappuccini. In linea di massima la situazione è buona in entrambi i camposanti, anche se ovviamente potrebbe essere migliore. Sia in quello di Marianello che ai Cappuccini sono stati esplettati alcuni interventi di manutenzione che hanno riguardato in particolar modo alcune passerelle e alcune rampe di collegamento tra un piano e l'altro. Sono state rimosse le reti divisorie a ridosso della piccola cappella all'entrata dei Cappuccini e pertanto con ogni probabilità la tradizionale messa del 1 novembre potrà essere celebrata senza alcun problema. Complicata rimane però la condizione dello stirrato, un'area del vecchio camposanto di cui ci siamo occupati diversi mesi fa. C'è sempre una situazione di pericolo con diversi loculi che rischiano di scivolare nel sottostante burrone. Una rete divisoria di colore arancione continua a segnalare il pericolo ma rispetto all'ultima nostra segnalazione la situazione non è migliorata. A breve dovrebbe partire un accordo quadro che tra le altre manutenzioni dovrebbe prevedere anche quella di questa ala dei Cappuccini ma se ne parlerà comunque dopo la commemorazione con i parenti dei defunti sepolti in questa zona che anche quest'anno dovranno fare di necessità virtù. Per quanto riguarda Marianello sembra essere stato ormai dal tutto assorbita la botta ricevuta dal passaggio di una delle tre trombe d'aria dello scorso 10 ottobre. Operai comunali e personale del corpo forestale inviato dalla regione hanno lavorato soprattutto a livello di rimozione dei grossi tronchi di albero staccatisi per effetto delle forti raffiche di vento. A parte qualche passamano staccato tra una rampa di scala e l'altra anche al cimitero di Marianello la situazione è tutto sommato in linea con le esigenze dell'utenza che già da qualche giorno ha iniziato le visite ai propri cari defunti.